Sul volo di ritorno a Roma da Istanbul, nella consueta conferenza stampa di fine viaggio, Papa Francesco ha risposto a domande su molti temi, dall'islamofobia e cristianofobia all'ecumenismo dei martiri, dalla volontà di visitare l'Iraq, anche se ora non è possibile, al traffico di armi, dal genocidio ormeno e la riconciliazione col popolo turco, al dialogo con gli ortodossi e la discussione sul primato del Vescovo di Roma, fino alla sua preghiera alla Moschea Blu. Ecco una parte della sua risposta sull'islamofobia e il terrorismo. Io capisco questo e credo che, almeno io credo sinceramente, che non si può dire che tutti gli islamici sono terroristi, non si può dire. e non si può dire che tutti i cristiani sono fondamentalisti, perché noi ne abbiamo anche, in tutta la religione sono questi gruppetti. Io ho detto al Presidente, ma sarebbe bello che tutti i leader islamici siano leader politici, leader religiosi, leader accademici, dicano chiaramente e condenino quello, no? Perché questo aiuterà alla maggioranza del popolo islamico a dire, no, davvero, ma dalla bocca dei suoi leader, no? Leader religiosi, leader accademici, tanti intellettuali, no? E leader politici. Questa è stata la mia risposta, perché noi tutti abbiamo bisogno di una condanna mondiale, anche degli islamici che hanno l'identità, che dicano noi, noi non siamo quello, il Corano non è quello.